Il virus continua a diffondersi e a creare il panico. La Lombardia allo stremo delle forze, gli ultimi presidi sanitari giunti nella regione più colpita dal Covid-19, indispensabili per aiutare in particolar modo medici e paramedici, sono risultati inidonei per la rabbia dei politici locali, in particolare dell'assessore Gallera. Attesi nuovi provvedimenti per contrastare il coronavirus, mentre appare assurdo che possano ancora essere possibili in questo periodo gli spostamenti verso sud delle persone del nord Italia, situazione che potrebbe essere bloccata con un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso tra oggi e domani. Ieri sono stati circa 500 i soggetti che si sono mossi dal settentrione d'Italia verso il meridione, specialmente verso la Sicilia. La situazione è comunque di confusione, il fatto di vivere la giornata sotto tutti i punti di vista senza un preciso canovaccio organizzativo rende ancora tutto più complicato. I posti letto negli ospedali vanno diminuendo, ormai in Lombardia non ce ne sono praticamente più. Il Covid-19 è davvero un virus fantasma, compare, scompare, come già accaduto più volte anche in Cina, per esempio a Wuhan, epicentro dell'epidemia, fino a qualche giorno fa non vi erano stati più casi, da ieri il virus si è rifatto vivo, contagiando altre persone. Ma se in Lombardia la situazione rimane gravissima, ci sono aumenti di contagio in Veneto, anche in Emilia-Romagna si attende con ansia l'arrivo dei kit medici, mascherine, guanti, tute, camici, così come servono i tamponi per gli strumenti per la diagnosi del virus. In Italia si è superato il numero dei 21.000 contagiati, con 1.400 vittime accertate, oltre 1.500 le persone in terapia intensiva di contro e fortunatamente sono aumentati anche i guariti. All'estero la situazione è in evoluzione, restrizioni in tutte le nazioni, in Francia, Spagna, Germania, anche in Israele, Gran Bretagna, chiuse attività di ristorazione e bar, vietati gli assembramenti, proprio quello che succedeva in Italia già qualche giorno fa. In Campania ieri sera sono salite 288 le persone positive al coronavirus, sono stati esaminati moltissimi tamponi, 17 positivi a Salerno, 15 ad Avellino, 13 a Napoli, nuvi ricoveri a Nocera, a Ponte Cagnano, comunicato dal sindaco un caso di positività. In totale i decessi per il virus nella nostra regione sono sette. Grazie a tutti.